Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Angolo mondiali, abbiamo quindi la prima finalista di questa Coppa del Mondo in Qatar. L'Argentina, come sapete, ha battuto la Croazia per 3-0 e conquista quindi la prima posizione nella finale. Stasera, seconda semifinale, Francia-Marocco, una partita molto attesa, una partita importante non solo per risvolti sportivi, ma anche ovviamente per risvolti sociali e bisogna vedere se il Marocco riuscirà nell'impresa di essere la prima africana a andare in finale e soprattutto ad aggiungere un altro scalpo europeo oltre a tutti quelli che già ha conquistato in questa edizione. Questa Argentina-Croazia non mi è piaciuta, non è stata una partita che mi ha particolarmente entusiasmato. Voto 6, la Croazia ha giocato molto male, la partita alla fine non è neanche vera, molto male. La partita si è risolta in una gara di Bundesliga sostanzialmente, ovvero due reti dell'Argentina decisive a strappare la partita tra il 34esimo e il 39esimo minuto ottenute con la Croazia in attacco. La Croazia ha impostato la partita a un ritmo molto blando, con il suo bel centrocampo. L'Argentina non aveva fatto sostanzialmente niente fino al 34esimo quando in un'azione di Perisic ha concluso verso la porta, deviazione o meno non lo sapremo mai, Orsato decide di non dare il calcio d'angolo. La Croazia si schiera malissimo sulla ripartenza argentina che trova quindi con un buco clamoroso di Lovren e del fenomeno Guardiol in mezzo all'area e molto bravo Alvarez a sfruttare l'occasione, viene a contatto col portiere Livacovic, Orsato sceglie per il calcio di rigore che Messi trasforma superando anche l'eccellente pararigori croato. La Croazia subisce un po' il colpo, ottiene un calcio d'angolo qualche minuto dopo ed è incredibile proprio come la Bundesliga la confusione con la quale non è in grado di fermare la transizione offensiva dell'Argentina. Alvarez va sostanzialmente in porta con il pallone vincendo un paio di carambole, un bornassosa disastroso che non riesce a chiudere ed Argentina sul 2-0 mette la partita in ghiaccio perché la Croazia per quanto possa avere un centrocampo molto forte e non astendo attacco figurati come avrebbe potuto recuperare le due reti di scarto. Nel secondo tempo poi arriva il terzo gol e ancora Giuliano Alvarez a segnarlo su una bella giocata di Messi che fa fare una brutta figura al fenomeno presunto Guardiol. Alla fine quindi Argentina in finale, complimenti dal punto di vista anche psicologico perché è un mondiale cominciato perdendo contro l'Arabia Saudita e trasformato invece in un accavalcato che porta in finale la squadra è qualcosa comunque di notevole, l'Argentina che non gioca un calcio particolarmente scintillante però è solida dietro, è cattiva, è sicuramente molto cattiva come ha dimostrato soprattutto nella partita contro l'Olanda è stata perdonata dalla FIFA perché la pseudo inchiesta dopo le incredibili dichiarazioni di Martinez o di Messi dopo la partita contro l'Olanda contro l'arbitraggio o la vergognosa azione di Paredes che ha tirato il pallone a fionda contro la panchina olandese non hanno portato naturalmente a nulla che possa incidere su questi mondiali e quindi l'Argentina è una squadra piccola di statura ma forte nell'animo e conquista la finale grazie anche a un Messi davvero comunque in formato top ed è un peccato davvero che le telecronache di parte di Adani sulla Rai facciano scivolare troppo anche leggendo solo qualche notizia ci si sofferma di più su di lui che non su quello che avviene al campo e soprattutto poi un personaggio così divisivo naturalmente fa quasi poi mandare in secondo piano quelli che possono essere i meriti della nazionale argentina perché si pensa solo a Adani che tra l'altro non è neanche il telecronista è la seconda voce eccessivo ieri è stata una cosa veramente infastidente certo c'è l'arma del mute però peccato dover spegnere e togliere l'audio di queste partite non sentire le vibrazioni del campo e del pubblico solo perché c'è un telecronista che ha deciso di essere più importante di quello che avviene un telecronista un commentatore tecnico che crede di essere più importante di quello che avviene sul campo peccato peccato questa cosa veramente l'ho trovata infastidente e non mi è molto piaciuta per quello che vale mi interessa sentire anche la vostra opinione come state vivendo questo aspetto che alla fine appunto tristemente sta diventando anche più importante di quello che avviene sul campo ora bisogna vedere questa finale l'argentina ci arriva con certezze, con sicurezze con questa linea difensiva forte con Otamendi, con Romero anche che sta giocando meglio non è un giocatore che mi abbia mai fatto impazzire ma l'ho trovato su uno standard molto più alto del solito mi piace di più quando difende a 4 che quando difende a 5 l'argentina ma questo non è una sorpresa Enzo Fernandez è sicuramente un grande giocatore e Messi comunque sta dimostrando stavolta anche in una grande rassegna di essere un giocatore che può essere decisivo e questo dà un'arma in più alla formazione argentina vedremo quale sarà la rivale Francia Marocco di oggi è molto interessante il 4-1-4-1 del Marocco saprà fermare anche non ho ancora letto le formazioni non so quali giocatori saranno assenti il Marocco ha finito con un po' di infortunati l'ultima sfida emozionante contro il Portogallo per cui dipenderà molto anche della formazione di partenza ma il Marocco ha un'anima e questa credo che sarà l'aspetto più importante della sfida partita bella da vedere oggi in attesa poi di vedere questa finale domenica alle 16 che sarà una gara comunque molto molto interessante Pagella di questa sfida 6 e mezzo a Martinez sicuro in uscita e ha governato l'area 6 e mezzo a Molina 6 e mezzo a Otomendi e Romero 6 a Tagliafico 6 a De Paul 5 a Paredes che a mio avviso non avrebbe neanche dovuto giocare questa partita perché dovrebbe essere squalificato per tantissimo tempo ma la FIFA è questo, il calcio è questo 7 a Fernandez 6 a McAllister 8 a Messi 7 e mezzo a Alvarez che non ha toccato molti palloni ma tutto quello che ha toccato l'ha tramutato veramente in oro 7 a Scaloni 6 a Martinez 3 subentrati per quanto riguarda la Croazia molte insufficienze 6 a Livakovic 5 a Juranovic che non ha replicato la bellissima prestazione contro il Brasile 5 a Lovren tutta la Croazia non è stata alla stessa altezza della gara contro il Brasile 5 a Lovren 3 a Guardiol che mi sembra che ne debba ancora fare di strada prima di essere davvero questo fenomeno che ci viene raccontato 4 a Borna Sosa e penso che Borna Barisic avrebbe potuto fare molto meglio su quella fascia sinistra 5 e mezzo a Brozovic 6 e mezzo a Modric 6 e mezzo a Kovacic 4 e mezzo a Pasalic 4 a Kramaric l'attaccante più fumoso penso di tutto il mondiale e 5 a Perisic che ha avuto la sua accelerazione in quell'azione che avrebbe potuto portare al calcio d'angolo da cui poi dopo è nato il gol dell'Argentina poi si è acceso molto poco dei subentrati niente male ho discreto Orsic sufficiente 6 5 Petkovic e 5 e mezzo Vlasic arbitrato Orsato sincero ho letto anche velocemente qualche nota entusiasta mi è sembrato un arbitraggio sufficiente la gara è stata sicuramente più facile che quella con l'Olanda probabilmente anche per merito suo si è adeguato al metro di questo mondiale con le ammunizioni una volta sì una volta no 23 falli 4 cartellini per me il voto è 6 grazie ragazzi fatemi sapere le impressioni di questa sfida cosa ci possiamo aspettare da Francia Marocco oggi e soprattutto poi le prospettive per la finale iscrivetevi al canale vi aspetto ciao a tutti e un bacio da Lox